Ma lo sapete che adesso arriva un bel video haul sui profumi? Sì! Dopo la sigla! Ciao bellezze! Bentornate su Vaniglia Chic! Questo è il primo video che faccio dopo aver cambiato nome al canale e inauguriamo il canale con un bel video haul Ho fatto un po' di acquistini per cui ve li mostro Inizio con Zara Da Zara ho preso un profumino Guardate che bello ragazze! Questo è Gardenia da 30 ml Il suo costo è di 5,95 Praticamente io amo questi profumi di Zara E ho voluto fortemente anche Gardenia Avevo intenzione di prendere il 100 ml Però ragazzi ho tantissimi profumi Quindi ad onor del vero preferito prendere il 30 ml Questo è Gardenia Il profumo in sé per sé è davvero molto buono Naturalmente come vi dico sempre questo è un video haul Poi vi farò vedere nello specifico questi profumi Ve ne parlerò nello specifico Questi di 30 ml sono veramente molto buoni Perché comunque con 5,95 euro Si ha un profumo di buona qualità Zara veramente fa dei profumi molto molto interessanti Poi io ho un po' di profumi di Zara Se vi interessa il video proprio dove vi parlo solo dei profumi di Zara Fatemelo sapere che ve lo registro al più presto Dove vi parlo delle note olfattive Di tutto quello che riguarda questi profumi di Zara Poi parliamo di idea bellezza Per quanto riguarda questo profumo voglio ringraziare la mia amica Fortuna Che mi ha gentilmente fatto il piacere di comprarmelo Perché io non ho idea bellezza nella mia zona E poi ci siamo incontrate al centro Campania E me lo ha consegnato Quindi ringrazio tantissimo la mia amica Fortuna E suo marito che sono stati gentilissimi A farmi questo favore Idea bellezza in questo periodo ha veramente tantissime offerte Per quanto riguarda i profumi Io già da un po' stavo aspettando Per quanto riguarda questo profumo Lo vedete sigillato perché il marito della mia amica Mi ha fatto fare il pacchetto regalo Per cui è veramente molto bello E questo è un profumo che era in offerta A 19,90 In pratica ragazze Questo è un profumo datato Ed è un profumo a cui io sono molto legata Perché lo indossava la mia mamma da giovane È stato il profumo della mia mamma per tantissimi anni Per cui l'ho voluto acquistare Chiaramente Chiaramente Amo i profumi di questo brand Assolutamente E sto parlando di Anai Anai di Cacharel Questo è da 30 ml Ed è in offerta da Idea bellezza A 19,90 Al più presto voglio prendere anche Lulu di Cacharel Perché sono due must have Questo profumo mi ricorda tantissimo La mia infanzia Perché la mia mamma lo indossava da giovane Mi ricordo che Le rubavo Questo profumo Insieme ai suoi Tacchi alti Poi giravo per caso Il profumo Anai Anai E Praticamente i tacchi Le scarpe Con i tacchi Della mia mamma Cosa che fanno tutte le bambine Tutte le bambine Allora Veramente tantissimi anni Che non sento questo profumo Lo provo insieme a voi Assolutamente Sono tantissimi anni Che non Non lo sento La boccettina è troppo carina Bellissima E vediamo un attimo Fantastico Assolutamente Fantastico Mi ricorda la mia infanzia Assolutamente Cioè è una cosa Come un profumo Ti possa portare indietro nel tempo Veramente Magico Che bei ricordi Stupendo Veramente stupendo Bellissimo Veramente Il mio maritino Che è bravissimo Mi ha ordinato da Amazon Questo profumo Di Dottor Taffi Ed è Mandorla Io amo Amo i profumi Alla mandorla Ma veramente Li adoro E questo profumo Devo dire Che è buonissimo Stupendo Ho già iniziato Ad usarlo Ripeto ragazze Se volete Se volete la review Di qualche profumo in particolare Di quelli che vi sto mostrando Comunque Fatemi Lasciatemi il commentino E io assolutamente Vi parlerò Nello specifico Di questi profumi Poi Ho fatto Un ordinuccio Piccolo piccolo Da bottega verde Perché ho approfittato Del black free day Che c'è stato A fine novembre Volevo Un profumo Di bottega verde Da un po' di tempo E Insomma Ho approfittato Del black free day Me lo sono preso Prima di mostrarvi Che profumo è Vi faccio vedere Anche Che cosa ho preso Per quanto riguarda I capelli Ho voluto prendere Questo shampoo All'argilla E pompelmo Questo qui Pompelmo rosa È da 250 ml Questo è per capelli grassi L'ho già provato Buonissimo Un buon profumo Veramente L'inci Non è dei migliori Ma io Non ci faccio Tanto caso Ragazzi Perché per quanto riguarda I capelli Sono Sono così E il mio mestiere Il mio mestiere Mi porta a provare Un po' di tutto Per quanto riguarda I capelli Continuerò ad usarlo Poi vi farò sapere Però Mi è piaciuto tanto Quest'ora in offerta A 3,99 Da 250 ml Poi ho preso Un altro shampoo Questo è da 200 ml È argilla E propoli Azione purificante Anche questo Buono Molto buono Come profumazione Preferisco questo qui Ma Devo dire Che anche questo È molto efficace Per il momento Per cui Vi farò sapere Uno specifico Come ci sono trovata Era veramente Tantissimo Ragazze Che non compravo Da bottega verde Tipo 3 anni E mi sono detta Vabbè Vediamo un attimo E veniamo Al pezzo forte Ho voluto prendere In ettari preziosi Magnolia Nera Leggo Quello che c'è scritto La magnolia nera È una dark lady Vestita di petali profumati Il suo fascino floreale Si rivela poco a poco Con un inatteso gioco Di note fruttate Quel che resta nel tempo A memoria Del suo incontro È uno strascico Di note orientali Con un sorprendente Guizzo gourmand Misteriosa E seducente Le note di testa Fruttata Mandarino Pesca Frutti rossi Ghiacciati Le note di cuore Fiorito Rosa Magnolia Gelsomino Iris Le note di fondo Sono orientale E gourmand Sandalo Legno Cedro Paciuli Vaniglia E muschi Questo è uno De toilette Ragazzi Non è uno De parfum Ma Devo dire Che nonostante Sia una De toilette È veramente Molto Molto Buono E molto Molto Persistente Veramente È fantastico Ed è Per essere Una de toilette Ragazzi Dalle note Olfattive Che vi ho letto È un profumo Che praticamente Se non è dosato Molto bene Fa venire Mal di testa A me Personalmente Quando ho provato Il campioncino Mi ha fatto venire Mal di testa Comunque Ve ne parlerò Più nello specifico Questo naturalmente È solo un video haul Vi ho dato qualche chicca Ma in realtà Voglio parlarvi Più nello specifico Di questo profumo In un video Apposito Insieme a tutti Gli altri profumi Che ho preso In regalo Ho avuto Questo Contorno occhi Questo È un contorno occhi Effetto lifting Praticamente Era già Nel mio carrello Un omaggio Per ogni ordine Questo è un effetto lifting Che io ho già usato In passato E mi ci sono trovata Molto bene Vediamo se magari Hanno migliorato La formula Ve ne parlerò Più nello specifico Io poi sono fissata Con i contorno occhi Tendo sempre a cambiare Certo Ripeto I prodotti Di Bottega Verde Sono buoni Ma non hanno Un ottimo inci A volte A volte sì A volte no Ho voluto Comunque provarlo Perché insomma Mi è stato dato In omaggio Per cui proviamolo Poi ho ricevuto Quattro campioncini In omaggio Uno de toilette Questo è Frutteto del sole Di Giardini Toscani Vediamo com'è Uno shampoo all'aria Nutritivo E rivitalizzante Una crema a mani Praticamente Al cacao e miele E un bagno doccia Con estratti Di limone Di Sicilia Limone Agrumi Ragazze Spero Che questo video Vi sia piaciuto Do appuntamento Al più presto Grazie Per aver seguito Questo video Lasciatemi Giù i commenti Interagite con me A me fa sempre Tantissimo piacere Fatemi sapere Se avete provato Qualcuno di questi profumi Come vi siete trovate E nel frattempo Io vi mando Un grande bacio Mi raccomando Fate le brave A presto Ciao 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 Autore dei sorrisi